Oggi cammineremo nella neve fresca, quindi oltre agli scarponi ricordate anche le ciaspole. Dopo aver lasciato la macchina a pezzo, frazione della località sciistica di Ponte di Legno, ci inoltriamo nell'incantata valle di Viso. Il percorso è inserito nel contesto del bellissimo Parco Nazionale dello Stelvio. In primavera e in estate è possibile percorrere la strada tra pezzo e case di viso in macchina, ma in inverno questa stessa strada si trasforma in un'ottima destinazione per una ciaspolata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il borgo, abitato nel periodo estivo, è costituito interamente da baite di montagne, perfettamente inserite nello splendido paesaggio. Nei dintorni troviamo una bella area picnic, che può diventare il punto di partenza per raggiungere il rifugio Bozzi o i laghi di Ercavalli. Il borgo, abitato nel periodo estivo, è costituito interamente da un'ottima destinazione per un'ottima destinazione per un'ottima destinazione per un'ottima destinazione. Sembra veramente che a case di viso il tempo si fermi, anzi che torni indietro facendoci respirare la vita di qualche tempo fa. Il borgo, abitato nel periodo estivo. Se vuoi supportarci, metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ti porteremo con noi in altri rifugi e percorsi di montagna.